eccoci nei pressi come vedete del posta e delle grolle mesner sta preparando alle prese con la passaciuta in quota sfrattati da capanna sinnele ingiustamente denuncio qui il fatto che siamo stati sfrattati dalla capanna sinnele vedete eravamo laggiù siamo arrivati un vecchio con la maglietta verde ci ha detto qui è tutto mio qua è tutto mio e invece non è solo un cazzo comunque noi questa sera ripieghiamo in un pernottamento al fraccaroli per questo abbiamo messo e sicuramente non privo di incontri femminili di un certo tipo anche per questo che abbiamo messo su youtube questo video per denunciare questo fatto di questi trentini che hanno comprato questo pezzo di montagna invece costruito dai nostri avi antenati carissimi che saluto ciao mario gino e beppino detto mitraglia un saluto